vedo che tutti sono bronzi allora dai su vediamo cosa vuole la piccolina piccolina dimmi cosa hai disegnato io voglio l'hamburger per favore vabbè faccelo ok dai su non farmi vedere le arti di cosa vuoi prendermi in giro ah si tu devi avere paura di me vabbè questo panino non mi va bene e quello rosso si ma il nero è ancora più bello adesso trovo qualcosa vabbè questo non mi serve puoi stare più attento zombie cosa c'è là cosa serve l'alio no toglielo che schifo come vuoi e dov'è il panino ed ecco il panino è ottimo e poi che buzze che colore guarda Wednesday vampiro ti piace oh non capite nulla allora mi servono le verdure che devo tagliare cosa le mani non mi ascoltano sono stato troppo tempo sotto terra vampiro non l'ho fatto apposta vabbè non uccidermi non uccidermi vabbè un'altra volta non uccidermi questo lo mettiamo qui sul panino ah si mi serve l'insalata questo va bene zombie buh è così divertente prenderli in giro ok mettiamo la lattuga sopra i pomodorini e ovviamente la carne macinata devo solamente fare sì le dimensioni giuste e poi all'hamburger servono i densi per proteggersi dai morsi e delle piccoline ciao bello mi servono i tuoi occhi grazie mille piccolina questi occhi staranno bene sul mio hamburger e adesso mi servo qualcosa di piccante e sì sarà bello guardate che corno oh che bello adesso io vi farò vedere cos'è bello ok prendiamo questo mettiamo la polpette e carichiamo ovviamente dobbiamo mettere gli occhiali e possiamo accendere sì è il modo perfetto per preparare la polpetta fatto iniziamo qui io sto bene sei sicura bello bello e se così questo è troppo la mano non si muove bello bello lasciamo così e aggiungo un ingrediente segreto sì il virus io lo adoro e per la piccolina non mi dispiace per nulla che schifo io preferisco aggiungere il ketchup è più appesitoso dei virus degli zombie cosa sì vabbè queste patacine mi servono per le decorazioni non resta che aggiungere gli occhi e il mio hamburger ragno pronto piccolina può assaggiare è proprio quello che pensa mamma mia è una mano zombie no che schifo non ti è piaciuto vabbè la metto qui e questo hamburger sembra più carino devo assaggiarlo perché è così strano cosa ma è carne crude che schifo ok spero che questo hamburger di Wednesday sia buono ok assaggiamo questo è buona questa patazzina e vediamo com'è questo hamburger troppo buono vince ovviamente Wednesday sì lo sapevo oh che terrore no la mia conciatura no sono venata vabbè non dovete ridere questa volta io voglio la torta cosa torta cavolo ho perso sarà fatta oh sì il sangue sì è facile ok vabbè mentre gli altri fanno le cavolate io comincio a preparare ok devo fare sì il pan di spagna ok le uova ma no quante volte ti ho detto di non toccare i miei strumenti dammeli e fai qualcosa di utile va bene dai su ecco tieni questo è per te puoi saltare è così carino è disgustoso ok andiamo a cucinare ok mettiamo un po' di farina ma no questo è troppo vai via cosa ho fatto io adesso ti mangio quenzi cos'era dai su non darvi fastidio mettiamo del latte e poi mi sarò nel petro della rosa nera per colorare l'impasto mescoliamo tutto quanto per bene mettiamo dagli stampi e poi prepariamo un attimo adesso vi faccio vedere come si prepara la torta e mi aiuterà il sì questo libro della mamma ok posso cominciare ok spacchiamo le uova poi aggiungiamo la farina e sì rifacciamo il trucco poi aggiungiamo del latte e ovviamente il colorante rosso e adesso mescoliamo tutto quanto per bene velocemente wow fatto e adesso lo versiamo nello stampo e lo prepariamo oh un libro di vampiro forse qui c'è qualcosa di utile ma perché è così complicato qui perché charlie ha mangiato il mio cervello prendo pan di spagna pronti e faccio così le bricele e poi aggiungo il sale e lo zucchero e anche questo lo aggiungo così zombie cosa c'è se vampiro oh cavoli non lo so vuoi che io lo prenda sì così col piacere cosa avete fatto no toglietemelo ouch chi è che l'ha fatto di chi devo bere il sangue ok adesso io devo serare fuori il mio pan di spagna ok aggiungo la crema e la parte più interessante è il sangue io voglio provare i soldi ma solamente uno ok spero che sia buona gli zombie ok passiamo alla torta penso che il sangue alla fragola vada bene facciamo un bocchino che buono e versiamo così sulla torta oh che bello è così appetitoso non resta che decorarla e il mio capolavoro è pronto i vampiri non sanno fare le torte ok il nero sì che è bello aggiungiamo la crema e facciamo la nostra torta e adesso prendiamo questo e decoriamo la crema e adesso mi servono delle ossa bella ok quello in basso sarà con le ossa e questo qui con i ragni e qui ci sarà un mostro ok la mia torta capolavoro è pronta ma dove è sparito un osso zombie cosa ma che ti punisca dammi che schifo e come faccio a mettere quest'osso sulla torta delle piccoline vabbè è piccola ed è una forse non lo vedrà ok le torte sono pronte allora vai a provare zombie non hai fatto nulla adesso 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 ok mettiamo questo il piatto poi poi questo e disegniamo il cervello e sopra aggiungiamo questo e si può mangiare oh caballo che schifo ok le torte ma è un mostro io ho paura di mangiarlo però dio spero che sia buona e che non ci vinci zombie ok un pezzo no 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 non posso andiamo avanti ma perché quest'osso è così babosa sto per vomitare no ok provo questo che carino che è è molto molto buono sì la vittoria sì no non è solo ok vediamo cosa vorrà la piccolina io voglio un cocktail sì facile ok devo pensare io non so io non so come si pensa ok comincia vabbè non devi toccare quello che è mio ok la ricetta del cocktail mettiamo il latte poi mettiamo qui il gelato e poi userò un segreto sì ecco metto questo e sarà nero perfetto ok devo mescolarlo per bene e poi quello che ho ottenuto lo metto qui nel frullatore e adesso dobbiamo mescolare tutto wow via zombie ok quello che ho ottenuto lo verso in questo bicchiere bellissimo e poi lo decoro con la panna montata poi aggiungiamo la cannuccia e sì le liquorizze è perfetta un po' di sciroppo alla fragola beh che bravo che sono cosa il mio cocktail sarà più bello per cominciare metto il cioccolato e poi aggiungo questo bicchiere guardate che bello è come cola e adesso e adesso metto l'angure e un po' di peperoncini oh sì anche questo mescoliamo tutto quanto per bene ok dobbiamo decorarlo per bene e sì gli zuccherini neri non sono mai troppi e questo sì che è bello ok dai decoriamo e mettiamo qui le cannucce questo cocktail perfetto è pronto zombie che stai seduto là e non si apre vabbè faccio senza quello queste bottiglie devo aprirle e adesso metterlo qua l'importante è stare attenti e poi aggiungo il gelato quello verde così anche io posso decorarli con questo sciroppo alla fragola sì i verbi gommosi sono buoni ma quelle vere sono più buoni ok decoro così e poi aggiungo dei vermi ed è fatta ok tutti sono bravi e allora andiamo a provare che bello questi cocktail ok parto da questo che buono che è sì mi piace e questo cocktail mi fa paura che schifo come ho fatto averlo la mia lingua è nera spero che sia ancora qua è così pesante è così grande spero che sia buono no è disgustoso vince lo zombie oh ho scelto me ho scelto me ciao a tutti vi prometto qualcosa di interessante ma prima portiamo qui Emma e Miranda ora siamo pronti Emma andiamo come vuoi soprattutto perché oggi ho scelto il pulsante giusto fantastico un peperoncino piccante non sono sicura che ti piacerà ma non puoi far nulla la scelta è fatta che è? oh no peperoncino basta non volevo e cosa ci faccio adesso? oh non lo so puoi provare non sono sicura che sia una buona idea ma non ci sono altre opzioni beh ci sento già il caldo qui che ingoba brucio comunque ce l'hai fatta brava Miranda come sai? anch'io ho scelto il pulsante la tua determinazione mi fa piacere ed è degna di un premio che ne dici del cioccolato? è molto appetitoso non posso fare niente mi fa venire voglia di metterlo in bocca ma non ci sono dimenticati niente? eh bene non dobbiamo perdere il tempo il cioccolato è tuo eccolo oh la mia testa cos'è? wow il cioccolato che bella sorpresa ho fatto la scioglia giusta il mio intuito non mi ha deluso non capisco perché fa così caldo qui dentro wow il termometro è fuori scala anche il cioccolato comincia a sciogliersi che succede? devo accendere l'aria con di celata Miranda ce n'è ancora un po' è tua che diavolo è questo? mi sembra affatto il cioccolato ai miei occhi non riesco a vedere nulla non le piace non è la parola adatta ma è una colpa mia è tutto colpo di Emma è in fiamme dobbiamo fare qualcosa ma l'acqua? dov'è? c'è un secchio spero che sia sufficiente a spegnere il fuoco acqua finalmente è in via che bella sensazione ora mi sento molto meglio per fortuna è finita bene è il momento del secondo round Miranda iniziamo da te non mi dispiace fatta il tuo coraggio non smette mai di stupirmi non so cosa fare ma spero che tu sappi usarli che bello fantastico ce l'ha ancora dai dammi dammi bello è un portatrucchi adoro truccarmi che ombretto che colori e ora di prendere in mano i penelli io farò una cosa bellissima vabbè ti lascio in pace vado da Emma come stai? bene ho già deciso fantastico sono contenta che possiamo continuare è in arrivo il gelato ti piacerà che fa così freddo? cosa c'è là? ghiaccio no è il gelato ah lo adoro sono felice di avercivuto così tanto sono pronta a mangiare tutto è così buono grazie non riesco a smettere crea dipendenza Emma potresti mangiare con un po' più di attenzione al diavolo le buone maniere se posso mangiare tutto mi sono congelata qualcuno ha una coperta ci dite riscaldamente per favore devo premere il pulsante cosa stai facendo Emma? così romperai tutto Miranda sbrigati cosa? un asciugge a pelli posso prenderla? perché? dopo dopo devo riscaldare Emma posso muovermi? grazie solo che il gelato si è sciolto oh no è un falimento oh dai Emma tu pensi solamente al cibo forse mi le dai il asciugge a pelli vedo che siete pronti per un altro round io premo il pulsante va bene come vuoi dai prima di iniziare dobbiamo indossare ecco una cosa di protezione ci servirà va bene fantastico e ora possiamo iniziare questi mattoni sono così pesanti non riesco a salivarli che male cos'è? scusa mi è caduto per sbaglio un mattone e ora prendi gli altri fa male dai a cosa mi servono? ok se prendi il cemento e la cassuola si può costruire qualcosa io penso che saprei gestire da sola non ho mai costruito nulla non so da meno come gestirla non ho un bel aspetto tuttavia ho la possibilità di mettere in mostra la mia ricca immaginazione ok sarà una cosa grandiosa cominci da qui è un grande è molto eccitante guarda che parete non avevo dubbi che ce l'avresti fatta è ora di andare da com'è? che velocità premo questo pulsante ben fatto Emma anch'io ho qualcosa di interessante per te ok vieni qui dai su scarica andiamo ma cosa è questa? non è una bella sensazione tonnellate di sabbia ok fine ciao non resta che dare a Emma i suoi strumenti e il mio compito è finito cosa ci faccio? adesso la caperai tieni? ma questo è per i bambini ok ho capito posso giocare nella sabbiera grazie penso che sarà divertente vedo che ci hai preso gusto si guarda che bello wow un vero costello sembra assolutamente fantastico e questo cos'è? cosa ne pensate? ho fatto del mio meglio voglio dare un'occhiata da vicino ecco ho finito credo che un mattone sia fuori posto cosa hai fatto? sta per comare mi sfaccio stavo cercando di aiutarti grazie sì sì lo adoro faccio un'occhiata non può passare con i dolci ecco melodie io posso non si può e cosa fare con la coca cola io ho un'idea allora mi serve questo posso versarlo così e poi posso nasconderla così nella maletta fatto nessuno capirà va bene spero che riesco a passare wow scusi posso passare sì grazie grazie buongiorno buongiorno io devo andare sì dal dentista ecco questo è per voi grazie ciao dentista io sono pronta a far vedere i miei denti mi fanno male i denti i miei denti sono più in alto sì sì certo ma vabbè io ho paura ma questo mi aiuta vabbè io posso dire sì e so che carina signorina ma cosa sta facendo forse un po' di coca cola se ne vada vabbè io questo lo prendo lo prenderò dopo sì l'appuntamento no non darò le mie cose buone e io ho un'idea adesso la farò vedere allora prendiamo lo sprite lo mettiamo qui e sì e mettiamo i denti ah cosa ah sì i denti va bene la mandibola ok che bello sì un attimo e io riuscirò a bere un po' di sprite cos'è questo suono ma qualcuno sta bevendo qualcosa ma no ma si è vero allora posso finire ma lo sento di nuovo cos'è non è lei ah è così ingenue e adesso ecco l'ho presa ma sta mangiando sì questo ma come si è permesso vabbè i dolci fanno male ai denti cosa ma prendono i dolciumi no non li darò io vabbè devo travestire perché sono un'infermiera e poi nascondo qui le mandem sì è pronto mh 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 maggiore l'odore salve infermiera vado mh sono passata che bello mh sì farò inizione fa ahhh bene proprio così ma qui mi hanno detto che lei non è un dottore mi dispiace devo andare ferma cosa non può scappare non adesso buongiorno e cosa con il ciù non si può io prendo questo e adesso fate feste io volevo passare con KitKat e so come farò io ho sempre un sì un ragno raggiaccomandato e questo mi aiuterà a portare dolciumi oh che carino che è e questa è la mia nipozina e questo chi è che sono è questo chi è cosa sto a mare ops signora Annie come sta respiri così meglio sai dove sta sì io devo fare visita sì da Frank c'è la paziente sì ok passi signorina giù ok un attimo bene bene io ne farò tempo posso mangiare vabbè non fa nulla ok dai su dai il cioccolettino ragno ok cosa un ragno vai via vabbè ma questa cosa non si può col dolci vabbè qui vengono delle persone e non mi lasciano giocare un attimo lei hai visto non si può portare i dolci e va bene ok grazie vabbè vabbè guardi oh cavolo bene l'ho capita e adesso torno e questo mi servirà ma qui c'era cosa vabbè è strano ecco non mi ha visto allora devo prendere la bottiglia e questo posso versare via fatto e adesso devo versare lo sprite vedete è geniale e poi l'acciunga io faccio finta sì che sia sì il dentifriccio mangio e vado buono ferma e questo cosa no ma cosa l'identifriccio e vabbè passi buongiorno si siede ok grazie e adesso ci sarà una frazione di importanza come lavare i denti sì va bene ho capito e poi così vede ha capito ecco sì la fa la densia prima metto il dentifriccio e poi così lavo i denti sì bene bene e poi sì certo così bene e deve sputtare perché io la bevo è buona cosa buona ma come si è permesso c'è scritto niente dolci signorina passi paura no non ce la faccio ma si va sì vado aspetta un attimo e questo cos'è il cioccolato eccolo prendo e adesso può passare e io cosa devo fare con i miei skittles certo io ho prato con me il mio orsacchiotto e allora lo devo usare orsacchiotto aiutami va bene non ti dispiace vero per averli scritto le slide dentro non mangiarle perché sono miei bene ok l'ho mascherata per bene ok andiamo tocca a noi fermo il giocatelo a me no l'ho 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 ok vado basta basta silenzio oh il mio sì il mio orecchio buongiorno sono qui eeeh cosa dormo no 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 cosa un attimo aspetti apri la bocca però mi dia l'orsocchiotto no l'ho 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 va bene va bene ho capito non me lo dia bene che pazienza che ho e adesso posso mangiare gli skittles buono adoro ok orsai che ti senti così sono pronta un attimo mi dia dolciumi poi passi io aspetto cosa dare dolciumi ok da tutto io vado ok cosa mi voleva ingannare ok prendo questo devo mettermi qualcosa voglio darmi cioccolatino ok dai su pensa oh ah si la ventilazione ok devo saltare in alto e posso beccare se l'ufficio dell'intista ok ma c'era un'altra persona e va bene ecco così è carino qui e poi dove oh no cado ok un'antaraggio non stato del migliore però vabbè sono qua dottore che ci fa qui oh ma così allora lei mangia dolciumi e cosa è il divieto vuole cosa va bene lo prendo io lo adoro che bontà yeah